Musica Io ho 42 anni e sono insegnante di musica e vorrei rimettermi in gioco. Voglio veramente una persona che creda nel rapporto. Musica Oggi dobbiamo trovare una compagna, una persona giusta per Lorenzo. Lorenzo è un uomo estremamente interessante. Musica Io direi che come primo contatto potremmo dargli Francesca. Musica Pronto, Lorenzo, ciao, sono Valeria del Club di Più. Ti disturbo in questo momento? Musica 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 Club di Più, felice di conoscerti. Musica Musica Musica